Era una mattina di traffico come ogni altra sul ponte di Cimadolmo quando dei passanti hanno notato una donna aggrappata al parapetto di sicurezza pronta a buttarsi. Sono stati proprio loro a bloccare il traffico per tentare disperatamente di salvare la 41enne. Attimi interminabili, quelli vissuti dagli automobilisti, la paura che si compisse la tragedia di fronte ai loro occhi e la volontà di salvarla a tutti i costi. È solo grazie alle parole di chi si è fermato che si è evitato lo scenario peggiore facendo desistere la donna a lanciarsi nel vuoto. Il dramma è accaduto alle 8.40 del mattino. Ho visto solo il traffico fermo che non andava e neanche non veniva, ma pensavo che fosse un greggio oppure che fosse stato un incidente che succede spesso qua. Traffico bloccato dal disperato tentativo di salvare la 41enne. A Sirene Spiegato sono arrivati i carabinieri e i sanitari del suo M118 per mettere in sicurezza la donna. Trovata in condizioni di forte stress emotivo e in crisi depressiva è stata ricoverata all'ospedale di Oderzo. Una donna che sentiva di non avere più ragione di vivere e che solo grazie all'aiuto e alla freddezza di alcuni passanti è riuscita a salvarsi. Sono situazioni che bisogna fare attenzione e che vanno seguite perché ci sono nelle comunità persone che sono nascoste, devono essere tirate fuori in modo tale da poter essere aiutate anche se non parlano e magari cercare di seguire per evitare questi drammi che fortunatamente non si è creato. Il gesto estremo che voleva compiere la 41enne non è nuovo per i residenti di Cilmadolmo. Sul tratto di strada provinciale 92 che attraversa il fiume Piave, infatti, anni fa si erano tolti la vita due uomini a distanza di qualche anno uno dall'altro, gettandosi dal ponte. Intanto il sindaco Giovanni Ministeri lancia un appello alle persone che hanno salvato la donna a farsi avanti e ricevere il riconoscimento per il loro coraggio. Il coraggio che ha avuto quell'uomo a fermarsi e a prendere l'iniziativa a Savana di domani è una cosa che gli dà onore e gli dà davvero importanza e lo ringrazio da parte della comunità.